Ciao a tutti, oggi siamo su The Passatel Capitano e vi faremo vedere una lucertola, è molto simpatica questa lucertola. Certo, oggi vi facciamo vedere questa lucertola e siamo riusciti a scovare mentre era a prendere il sole. Questa è una giornata di aprile, siamo nei primi giorni di caldo dopo che è finito l'inverno e questa lucertola, che è un animale come voi sapete, molto agile, vedete come è guardinga, vedete come respira, è un animale a sangue freddo, quindi i primi raggi di sole la colpiscono. Guardate, guardate, è un animale che deriva, i suoi antenati sono, tu lo sai Anna, sono i dinosauri addirittura, così si narra e così dovrebbe essere. Voi sapete una cosa, che la lucertola, quando è in difficoltà, quando un predatore la sta, diciamo, catturando, lei ha un trucco, riesce a staccare la coda e il predatore rimane buggerato, dopodiché la coda gli ricresce. Questo è un altro esemplare che abbiamo preso, è più grande di quello di prima. Comunque adesso vi salutiamo, sempre per la rubrica degli animali, ciao a tutti, The Passatel Capitano. Ciao!